Musica Albanella, la furia del torrente Malmone uccide una 26enne di Stio. Vallo di Diano, ragazzo aggredito da docente, riflessione sul ruolo dei docenti e sull'educazione dei giovani. Ordinanza regionale, il flash mob dell'Associazione Commercianti per Salerno. Sassano, Los Angeles, Nick Di Brizzi, attore in Fargo, costituisce una fondazione benefica, la nuova vita dopo la fibrosicistica. Musei, finanziamenti regionali per Teggiano e per Tosa. Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. È stata la furia del torrente Malmone, affluente del calore, a provocare la tragedia di ieri sera ad Albanella. L'acqua ha invaso la strada e un'auto su cui c'erano due fidanzati è stata trascinata a perdere la vita una 26enne Desiree Quagliarella, originaria di Stio e Cilento. Il ragazzo invece è riuscito a salvarsi. Vediamo il servizio. 7 ottobre 2020, una data funesta che nessuno dimenticherà più ad Albanella. Sono le 8 di sera quando le urla strazianti di una donna si levano al cielo. È la mamma di Desiree Quagliarella, in quel momento ancora dispersa. Al suo fianco, appoggiata alla ringhiere del Ponticello, in località Bosco, l'altra figlia che disperata invoca il nome della sorella. Ad abbracciarle il papà, stimato carabiniere in congedo. Tutti intorno è buio pesto. Sotto la pioggia, nella notte, si stagliano solo i lampeggianti delle auto dei soccorritori, accorsi nel punto in cui è stata rinvenuta l'auto sulla quale viaggiavano la giovane e suo cognato. Desiree, 26 anni ed originaria di Stio Cilento, aveva appena finito di lavorare presso un'abitazione privata dove faceva le pulizie. Il fratello del fidanzato, un giovane albanellese, era andato a prenderla per tornare a casa. Nel discendere dal capoluogo lungo via Perrelle, l'acquazzone che imperversa diventa un nubifraggio e il malnome si ingrossa fino ad esondare. Violentissima ed improvvisa, è l'ondata di piena che frantuma l'argine della strada e inghiotte la loro Renault Clio. Il ragazzo riesce in tempo a scendere dalla vettura. Anche Desiree tenta di farlo, ma quando apre lo sportello, una valanga di acqua e fango la travolge, trascinandola a valle. A dare l'allarme è proprio il cognato, scampato all'ira del malnome. E i soccorsi scattano immediatamente. Sul posto arrivano polizia municipale, carabinieri, il gruppo fluviale dei vigi del fuoco di Salerno con gommoni e natanti, protezione civile e un'ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Scalo. Giungono anche il sindaco Enzo Baggini e l'assessore Giovanni Mazza. Ma a farsi largo nella melma sono in particolare decine di persone della zona che torce in pugno e, contrattori, perlustrano nell'ombra le rive del malnome senza sosta. Dopo circa due ore è proprio un residente di Bosco a spezzare ogni speranza. Pochi metri più avanti, sotto un altro ponticello, spunta un corpo. E basta poco per capire che è quello senza vita di Desiree, giacente sei minuta tra detriti ed alberi spazzati via dalla piena. Una scena terribile, agghiacciante, che piega in due la mamma in preda ad un pianto incessante, interrotto solo da singhiozzi e dal nome della figlia che continua a gridare forte, come solo una madre può fare. La vita di Desiree si è spenta lì, sul ciglio di un torrente, stroncata nel fiore degli anni da un destino crudele, ingiusto. Distrutta e sotto shock anche la famiglia del fidanzato, persone umili e perbene, stimate da tutti. Desiree doveva sposare il suo Cosimo proprio quest'anno, ma a causa del Covid avevano rinviato le nozze, iniziando intanto a convivere insieme ad Albanella. La loro è una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre l'intera comunità albanellese e di Stio Cilento, dove per ore tutti hanno tenuto il fiato sospeso, condividendo l'angoscia dei familiari minuto per minuto durante le ricerche, fino al dramma, e ora si stringono in un abbraccio commosso ai familiari di Desiree, giovane e cilentana, tutta casa, lavoro, famiglia e bella come il sole. La fule del malnome ha spento per sempre il suo sorriso e tutti i suoi sogni. Il video che nella giornata di ieri è stato diffuso, relativo al caso dello studente aggredito dall'insegnante, ha dato il via non solo alle indagini dei carabinieri, ma anche ad una riflessione tramite social sul ruolo dei docenti e sull'educazione degli alunni, il servizio. Sta facendo discutere molto quanto accaduto in una scuola di Teggiano e reso noto attraverso un video che è stato girato da alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore. Un docente che aggredisce l'allievo strattonandolo ed anche con schiaffi. Un gesto da condannare, certo, ma accompagnato però anche da una serie riflessione. Sono in molti, infatti, che manifestano questo pensiero attraverso i social, dove tutti si chiedono di chi sia la colpa. Il video, intanto, ha spinto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, ad aprire un'indagine in merito per comprendere bene quale sia stata la causa scatenante dell'aggressione da parte del docente nei confronti dell'alunno e ricostruire anche la parte non ripresa dal video che è stato diffuso nelle ore scorse. Ragione del contendere, secondo quanto emerge, pare sia stato l'utilizzo della mascherina, non indossata o indossata male. Ma indipendentemente dalle motivazioni, sui social si scatenano i commenti, molti dei quali invitano alla riflessione su cosa sta accadendo oggi e su quali sono i principi dell'educazione e dell'insegnamento. Alcuni ricordano la scuola di un tempo, quando gli insegnanti avevano anche il ruolo di educatori e che lo scappellotto dato da un insegnante nei confronti di un alunno indisciplinato diventava anche motivo di vergogna e paura a casa dove c'era il rischio di dover fare i conti con i genitori adirati, con il proprio figlio per eventuali mancanze di rispetto nei confronti dell'adulto docente. Altri commenti invece spingono a riflettere su chi sia l'aggressore e chi la vittima e sottolineano come bisogna anche chiarire il ruolo dell'educatore, soprattutto chi abbia il compito di educare i ragazzi al rispetto, se l'insegnante o i genitori. Non mancano però anche commenti a favore dei ragazzi in cui si registra preoccupazione per quanto accade nella scuola. Insomma, il video, oltre a far scattare le indagini da parte delle forze dell'ordine, ha offerto soprattutto l'input per avviare serie discussioni sui temi dell'educazione dei giovani. Questa mattina il flash mob di protesta davanti alla prefettura organizzato dall'Associazione Commercianti per Salerno che rappresenta i titolari di bar, pub e ristoranti che non accettano le disposizioni della nuova ordinanza regionale. Annullare la chiusura alle ore 23 dei locali pubblici, eliminare il divieto di vendita per asporto dopo le 22, attivare maggiori controlli in strada dove si individuano assembramenti, concedere straordinariamente la copertura degli spazi esterni per il Covid. Sono i quattro punti richiesti e sottoposti alla regione Campania attraverso un documento unitario dell'Associazione Commercianti per Salerno che questa mattina ha tenuto in piazza Mendola un flash mob contro la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che con l'ultima ordinanza ha disposto nuove restrizioni ad un settore già duramente penalizzato dal lockdown. Obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura delle attività alle ore 23 da domenica a giovedì e alle ore 24 nei giorni di venerdì e sabato. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione, pub, vinerie, kebab e similari, l'obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti, nonché degli avventori per asporto, alle ore 23 per l'intera settimana, mentre le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Titolari di bar e ristoranti questa mattina hanno srotolato slogan in Piazza Mendola per sottolineare il loro disappunto per una decisione non condivisibile che pesa e cede un altro duro colpo alla categoria. Si colpevolizza un intero settore che invece nel tempo dopo il lockdown ha subito mostrato di essere rispettoso delle regole. L'avvocato penalista Michele Di Jesu di Sala Consilina entra a far parte del Consiglio giudiziario della sezione autonoma della Corte d'Appello di Potenza. Come da decreto dello scorso marzo, le elezioni per i rinnovi dei consigli giudiziari si sono svolti domenica 4 e lunedì 5 ottobre. L'esito di tali elezioni ha portato un importante riconoscimento per il noto avvocato penalista Salese che entra così a far parte del nuovo gruppo consigliare che resterà in carica per il prossimo quadriennio, quindi fino al 2024. Grande soddisfazione è stata manifestata dall'avvocato Di Jesu che commenta è superfluo sottolineare che questo risultato mi inorgoglisce. Ringrazio davvero tutti, nessuno escluso, in particolare i numerosi colleghi magistrati onorari che hanno voluto tributarmi la loro fiducia. E andiamo avanti. Si conclude domani a Polla in Piazza Forte la campagna di screening oncologici gratuiti Mi Voglio Bene dell'Asle di Salerno. Vediamo. Si conclude domani a Polla in Piazza Forte la campagna di screening oncologici gratuiti Mi Voglio Bene dell'Asle Salerno partita lo scorso 23 settembre. Medici nelle piazze della provincia con l'obiettivo di incentivare l'adesione e sensibilizzare al tema della prevenzione. 13 le tappe organizzate nei maggiori centri da nord a sud oggi a Sapri in Corso Italia e domani per l'ultima tappa del tour a Polla dalle ore 9 alle ore 18 ad attendere i cittadini nel camper allestito dall'azienda sanitaria locale diversi medici. È possibile eseguire il pap test prenotare una mammografia ricevere informazioni sul test colon retto. Medici e operatori dell'Asle forniscono tutte le informazioni utili ad individuare e semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening. Oltre ai già previsti interventi sono effettuate anche gratuitamente varie altre consulenze, controlli, visite e prestazioni messe a disposizione dell'utenza dai singoli distretti sanitari. In tanti, in queste settimane, hanno risposto all'invito dell'Asle a partecipare attivamente sottoponendosi ai controlli previsti nella consapevolezza che allo stato attuale le attività connesse agli screening vengono considerate impegni differibili. L'iniziativa proposta annualmente e in modo capillare su tutto il territorio provinciale è finalizzata al potenziamento dell'azione preventiva e informativa avvicinando e interagendo direttamente con i cittadini utenti. Dopo una lunga e difficile battaglia contro la fibrosicistica Nick Di Brizzi, originario di Sassano che vive a Los Angeles racconta la sua nuova vita che lo vede attore e fondatore di un'organizzazione benefica a sostegno di persone che devono affrontare le sue stesse difficoltà aiutando i pazienti affetti da fibrosicistica come la sua Sassano ha aiutato lui il servizio. Cinema e solidarietà per il giovane sassanese di Los Angeles Nick Di Brizzi attore della serie tv statunitense Fargo e alla guida di una fondazione benefica a sostegno delle persone affette da fibrosicistica. Un messaggio di speranza per quanti devono fare i conti con gravissime patologie. Nick Di Brizzi infatti è tornato alla vita dopo una fibrosicistica polmonare che lo aveva costretto ad una vita attaccata alle macchine. Grazie alla solidarietà di Sassano e del Vallo di Diano è stato possibile per lui effettuare l'operazione di trapianto polmonare e affrontare le cure per tornare ad una vita normale. Oggi quel giovane è un attore della nota serie tv statunitense Fargo giunta la quarta stagione e che racconta la guerra territoriale come ha avuto modo di spiegare lo stesso Nick Di Brizzi tra mafia afroamericana e mafia italiana operante a Kansas City in cui il giovane originario di Sassano ha potuto recitare accanto a grandi attori come Salvatore Esposito Jenny Savastano in Gomorra Chris Rock e numerosi altri volti noti del cinema statunitense. L'anno passato ho fatto un provo per una parte per Fargo mi hanno scritto una piccola parte per me che si chiama Paolo Indrizzi Fargo era un cinema credo era anno 96 dei fratelli di Cohen e ora hanno fatto una serie e queste sono quattro stagioni e ogni anno c'è un cast diverso e una storia diversa quest'anno è una storia come una guerra territoriale della mafia italiana contro la mafia afroamericana a Kansas City nell'anno 1950 fino a ora hanno fatto tre episodi e ci sono undici io sono in come cinque o sei episodi tengo una piccola parte della mafia italiana di Kansas City volevano proprio a fantasy allora hanno chiamato quattro persone dell'Italia attore ma hanno lavorato insieme Salvatore Esposito De Gamora Gaetano Bruno Francesco Acquaroli e Tommaso Ragno Francesco Acquaroli pure in Suburra faccia la parte dei Samurai in Suburra sono grandi attori ma più dei grandi attori sono tutti e quattro grandissime persone siamo fatti amici con tutti e quattro siamo stati assai insieme Pongere pure Chris Rock Jesse Buckley Jack Houston Nick Di Brizzi però non dimentica mai la sua sassano e l'aiuto ricevuto dalla sua comunità d'origine tanto da averne seguito l'esempio di solidarietà creando una fondazione non profit The Brit Like Boss Foundation che si occupa di sostenere le persone affette da fibrosi cistica e che necessitano di trapianti d'organo la fondazione di Nick Di Brizzi operante negli stati di California e Illinois si occupa ad esempio di sostenere le spese per l'abbonamento della palestra e per l'acquisto di attrezzature sportive necessarie per effettuare esercizi specifici per i malati di fibrosi cistica presso le proprie abitazioni Una cosa importante che veramente sono quasi ricordo ma credo che l'Italia si ricordo a tutto quello che mi hanno aiutato all'Italia è una cosa che non mi scordo mai Falandino Don Bernardino i bank e tutto quanto tutto l'assassano Vallo di Diano sono veramente orgoglioso di essere sassanese questo è stato un esempio per me e allora quando sono tornato ho cominciato questa organizzazione in un non-profit che si chiama The Breathe Like a Boss Foundation che aiutava assai persone con fibrosi cistica e quello che hanno avuto trappianto di organo qui a California e pure Illinois In meno di tre anni la fondazione creata da Nick Di Brizzi ha potuto già aiutare circa 20 persone affette dalla grave patologia Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale approvate le graduatorie per l'assegnazione dei contributi nell'ambito del bando di promozione e valorizzazione di musei e biblioteche finanziabili i progetti presentati dalla diocesi di Teggiano Policastro e dalla fondazione Mida di Pertosa Con decreto dirigenziale la giunta regionale della campagna ha approvato le graduatorie per l'assegnazione dei contributi alle istituzioni museali locali nell'ambito del bando di promozione e valorizzazione dei musei e biblioteche Su 73 istanze presentate 57 risultano ammissibili Tra queste c'è il progetto presentato dalla diocesi di Teggiano Policastro finanziabile per un importo di 10.000 euro dal titolo produzione di materiale promozionale il patrimonio artistico dei musei diocesani di Teggiano e Policastro il contributo permetterà all'ente di produrre un catalogo scientifico a stampa dei plianzi illustrativi cataloghi divulgativi e un sito web per far conoscere e scoprire le meraviglie dei tre siti museali la sede storica di San Pietro e Lapidario di Anense a Teggiano e la sezione staccata di Policastro Bussentino soddisfazione stata espressa dal direttore Marco Ambroggi per la possibilità di rieditare il catalogo scientifico del museo stampato nel 2010 e ormai non più aggiornato per i vari riallestimenti ed acquisizioni avvenuti negli ultimi anni il progetto della diocesi di Teggiano Policastro rientra nella graduatoria B per il capitolo di spesa 5013 nella stessa graduatoria ma per il capitolo di spesa 5006 rientrano altre tre progetti presentati da enti salernitani quelli del museo della bussola di Amalfi del frac di Baronissi e del museo della memoria di Campagna per quanto riguarda invece i progetti di valorizzazione del complessivo patrimonio museale campano rientranti nella graduatoria C risulta finanziabile per il capitolo di spesa 5013 con un importo di 10.000 euro il progetto presentato dalla fondazione Mida di Pertosa volto alla realizzazione di itinerari storico-culturali nel sud della Campagna altro progetto salernitano finanziabile nella stessa graduatoria ma nel capitolo di spesa 5006 e quello presentato dal comune di Eboli museo aperto il racconto del territorio e dei suoi elementi come risorsa Domenica 18 ottobre a Padula la mostra la pittura di pietra dell'artista artigiano locale Enrico Pinto Domenica 18 ottobre l'inaugurazione della mostra la pittura di pietra di Enrico Pinto il vernissage presentato dall'associazione di promozione turistica Artem con il patrocino del comune di Padula l'esposizione si inserisce in un ciclo di mostre che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto e sostenuto dando spazio alla creatività dei talenti del territorio sarà realizzata all'interno delle magnifiche sale delle derrate della certosa di San Lorenzo l'idea nasce da un incontro con l'artista Enrico Pinto che ha aperto le porte del suo atelier l'artista artigiano all'interno del suo laboratorio a Padula realizza manufatti artistici oggettistiche in pietra e in marmo la giornata inaugurale dell'esposizione sarà domenica 18 ottobre alle ore 17 con ingresso gratuito la mostra sarà poi fruibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 fino al 2 novembre con prenotazione obbligatoria e in rispetto alle norme vigenti in materia di prevenzione della diffusione del covid negli ambienti espositivi è ammesso un numero massimo di 15 persone per volta con l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento e proseguono a Castelcivita gli interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio comunale i dettagli sono diversi gli interventi previsti a Castelcivita per la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio comunale l'amministrazione rende noto che risultano in stato avanzato gli interventi di sistemazione della strada comunale Cosentini Tempa la Casa e che con un bando di gara del 29 settembre scorso è stata avviata la procedura aperta ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e interventi di messa in sicurezza di strade comunali per un costo complessivo di 149.500 euro l'intervento che riguarderà arterie stradali di particolare importanza sul territorio di Castelcivita come la strada comunale Consortile e la strada comunale Aia della Via sotto Lanzo è finalizzato all'aumento dei livelli di sicurezza e al miglioramento della percorribilità delle tratte stradali l'importante intervento fanno sapere dall'amministrazione comunale va ad integrarsi con ulteriori progetti che riguarderanno il territorio della contrada serra in particolare l'amministrazione informa che a breve partiranno i lavori di sistemazione adeguamento e messa in sicurezza di tratti di viabilità rurale per un importo complessivo di 42.000 euro e saranno avviati anche gli interventi di efficientamento energetico agli impianti di pubblica illuminazione in località Serra per un costo complessivo di 50.000 euro E con questo servizio termina l'edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata Grazie a tutti